ma che mi sto svegliando guarda i soldi ci sono qua li vuoi prendere o che cosa? deciditi perché sennò se ne vanno li prendi? un applauso, un grosso applauso per domenico il sabato che accetta i 50 euro dell'onipotente Dio Manimarco che chiede che cosa per questi 50 euro? di sculacciare Rosario Muniz per bene belle sculacciate toste fa un po' cagare fa un po' cagare la cosa però vabbè prendi pure i soldi anzi li prendo io li vado nella casa forte li posso dare anche ragazzo comunque complimenti perché questo è davvero questo tuo accettare questi 50 euro fanno di te veramente una persona da stimare grazie quindi va bene dall'idea pure a me perché lui c'è tutto ai debiti col di pre-museum quindi automaticamente vanno comunque vanno al di pre-museum ma dopo non stai a preoccupare ok allora andiamo pure grazie a tutti